Viola Vinca è un brand autenticamente made in Tuscany, presenta al Micam la prima collezione Fall Winter 2012-2013. È un viaggio nella storia ma guarda al futuro. Nella storia perché abbiamo utilizzato le connotazioni della Toscana degli anni 50 e infatti abbiamo effettuato lo shooting fotografico nella stessa location dove nel 1951 si è tenuta la prima sfilata di Haute Couture in Italia. Presenta ufficialmente al Micam questa prima collezione insieme ad una collezione di due modelli di occhiali che hanno un richiamo ai pellami utilizzati per le calzature e alla tipologia di design con un richiamo agli anni 50 e agli anni 60. Perché Viola Vinca? Viola Vinca si ispira alla donna, si ispira all'eleganza, si ispira alla leggerezza e quindi è un richiamo di due fiori, la Viola e la Vinca. Nella collezione troviamo grande femminilità, altrettanto praticità. Troviamo calzature a tacco alto e a tacco basso. Le calzature a tacco alto supportano una praticità pari alle calzature a tacco basso. In contemporanea alla prima collezione, Fall Winter 2012-2013, abbiamo presentato una collezione di occhiali e due modelli in particolare. Il primo richiama gli stessi pellami che vengono utilizzati per le calzature, il secondo invece richiama gli stessi colori che richiamano utilizzati sempre per le calzature. Anche gli occhiali hanno un richiamo agli anni 50 e 60. Viola Vinca è alla prima uscita Fall Winter 2012-2013, siamo presenti qui al Micam e i primi feedback sono veramente stati molto positivi. Siamo contenti delle visite che abbiamo avuto. I nostri mercati di riferimento sono chiaramente l'Italia, dalla quale partiamo essendo un prodotto Made in Tuscany, ma molto molto importanti e ce li danno conferma alle visite che abbiamo avuto, sono il mercato giapponese, francese, russo e orientale. La nostra distribuzione sarà oltre che in Italia, presente in questi mercati, sui quali abbiamo un'esclusiva con un distributore che curerà questi paesi, approcciremo successivamente ma a brevissimo tempo al Giappone e alla Cina.